Cinque persone indagate a Gubbio per la gestione della discarica di Colognola, tra queste il sindaco Filippo Mario Stirati, il dirigente del servizio ambiente Raffaele Santini, il tecnico assistente di discarica Enrico Minelli e due tecnici della Co-Progetti, Walter Fabio Filippetti e Luigi Nocapponi. Si tratta per ora dell'avviso di conclusione delle indagini firmato dal PM Carmen Donofrio e notificato in queste ore. L'accusa violazione delle norme ambientali nella gestione dell'impianto. Tutto risale alle analisi condotte dal NOE negli anni scorsi presso il sito della discarica Gubbina di Colognola, dove sarebbero stati rilevati sforamenti nelle acque reflue, omessi campionamenti anomale formazioni di percolato, tra le sostanze che sarebbero state trovate in falda, ammonio e in quantità sopra la norma, ferro, manganese, solfati e nitriti. La Procura contesta ad amministratori e tecnici di non aver messo in atto i doni e i provvedimenti atti ad evitare infiltrazioni nelle acque, come ad esempio la sistemazione di teli di copertura impermeabilizzanti. Rilievi dunque di carattere esquisitamente formale e tecnico, per i quali però, come responsabilità oggettiva, si trova ora coinvolto anche il primo cittadino. La discarica di Colognola da anni rappresenta uno dei principali grattacapi dell'amministrazione Stirati. Giunta a saturazione, dovrebbe essere riambientata, ma di fatto mancano i soldi per poterlo fare. Il sindaco ha sempre denunciato la leggerezza con la quale le precedenti amministrazioni ugubine hanno gestito la questione, non accantonando risorse per la gestione della chiusura dell'impianto, la cosiddetta post-mortem della discarica. Oggi si parla di almeno 3 milioni di euro necessari per sigillare il sito di Colognola, ma accantonati per il momento ci sono solo 200 mila euro circa, derivanti dal bilancio dell'amministrazione Stirati. Tra le ipotesi per il reperimento dei fondi era stata avanzata quella di consentire a Colognola di continuare a ricevere rifiuti per almeno altri 100 mila metri cubi, in modo da accantonare anche una quota delle risorse derivanti dal conferimento per la successiva gestione post-mortem. Ipotesi contestata dagli abitanti della zona che già da tempo denunciavano una situazione della discarica preoccupante. L'inchiesta della procura, sebbene su questione meramente tecniche e formali, giunge come ultimo atto di una questione complessa e spinosa che si trascina a gubbio da decenni.